L'incidente nella serata di domenica 26 gennaio, poco dopo le 19, sulla strada provinciale 222 Trozegna e Rivarolo, a scontrarsi una Fiat Bravo e una BMW 320 Station Vagon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo Canavese e i carabinieri di San Giorgio Canavese e del nucleo radiomobile di Ivrea. L'impatto è stato alquanto violento. La Bravo, prima di finire contro la BMW, è salita sullo spartitraffico abbattendo alcuni cartelli stradali. Feriti ma non in pericolo di vita i due conducenti di 49 e 63 anni, trasportati all'ospedale di Ivrea, accertamente in corso sulla dinamica. Acce previne contro la Neden. Seve Ciao che l'abbiamo facendo la nostra caratteristica. Restato è stato rotato, è stato di elevare le facce a una delle puppioni che mi Eğer riporto, è? È fortale, è fortale. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho ho, 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 ho. Grazie a tutti.